L'Umbria dei sindaci, l'Umbria degli amministratori, l'Umbria della popolazione si rivolta contro la cattiva e la sbagliata disinformazione sul conto del contagio nella nostra regione e arriva, non proprio puntuale, il ministro Speranza che dice la situazione in Umbria non ha mai destato preoccupazioni. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza in una dichiarazione all'Ansa. Lo ha fatto dopo gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità che collocano la regione tra quelle a basso rischio per la diffusione dell'epidemia da coronavirus. E speriamo sia finita qui.